Ce l'abbiamo fatta, è stata una missione impossibile, ma ci siamo riusciti, quindi siamo ancora in Serie B. Ha segnato il capitano che adesso lascia. Spettacolare, i migliori auguri da parte di tutti i tifosi, 41 anni, spettacolari. Oggi festeggiamo, ma diciamo che la tifoseria del Bari non merita di festeggiare una salvezza al play-out della Serie C, questo è poco ma sicuro. Ci prendiamo questa vittoria, questa permanenza in Serie B e speriamo che l'anno prossimo vada meglio, magari con un'altra proprietà che offra spettacolo. Una serata di gioia dopo tante esperienze deludenti quest'anno. Sì, è brutto per noi baresiti gioire per una salvezza, non è questo che ci meritiamo, speriamo che il presidente lo capisca. Una consolazione secondo me, e basta. Era l'unica cosa da fare, adesso speriamo che vadano tutti via da qua. L'anno scorso abbiamo pianto, quest'anno almeno abbiamo un po' gioito, ma non sono queste le gioie che merita la città di Bari.